Una donna elegante, garbata e allo stesso tempo ferma e decisa, una donna ad altri tempi. Se ne è andata in punta di piedi, ma lasciando un grande vuoto dietro di sé, Anna Braghieri, prima e unica donna sindaco nella storia di Piacenza. Per 16 anni ha guidato l'Opera Pia Alberoni ed è stata presidente del Vittorio Emanuele negli anni Ottanta. La professoressa è stata prima cittadina per soli 257 giorni, dopo la formazione di un governissimo tra la democrazia cristiana, a cui lei stessa apparteneva, il Partito Democratico della Sinistra e il Partito Socialista Italiano. Non fu un momento facile, in piena tempesta a Tangentopoli servivano personalità credibili, come era lei. Braghieri ha avuto anche un lungo rodaggio amministrativo, è stata in consiglio dall'80 al 94 e capogruppo DC dall'80 all'85 fu anche assessora ai servizi sociali. Notevole e prezioso fu il suo impegno verso APL, condiviso con Maraconti, l'associazione piacentina Leucemie. Il 10 maggio di quest'anno era stata insignita della benemerenza della primogenita, non aveva ritirato il premio per problemi di salute. Apporgere le condoglianze a nome della giunta del Consiglio Comunale è il sindaco Paolo Dosi. Sapevo che purtroppo era ammalata da tempo, commenta il primo cittadino, ma la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità piacentina. Mi conforta averle conferito pochi mesi fa l'attestato di civica benemerenza, con cui abbiamo potuto sottolineare ufficialmente la riconoscenza e la stima dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza nei suoi confronti, rimarcando tra i suoi meriti la capacità di valorizzare la cultura della solidarietà.